Intervista a caldo a Giuliano Gullo Allora Giuliano, non state la disavventura della seconda PS In questa è andata tutto bene? In questa è andata benissimo, sono andato molto veloce Perché ci avevo preso la mano E ho dato... Eh, dovevo fare, no? Giusto? E... Sono riuscito a dare un po' di secondi al grande scandola E sono veramente contento Bene, spero che mi porti un bel risultato finale Aspettiamo domani però... Lo scopriremo domani però vedremo, vedremo Intanto siamo già un po' felici Molto, molto Grazie Giulio Prego